Enrico Letta, vice segretario del Partito Democratico, è stato incaricato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a formare il nuovo governo. Letta ha accettato con riserva. Il governatore della Regione Marche, Gian Mario Spacca, rientrato da Roma dopo l'elezione del Presidente della Repubblica in quanto grande elettore, si è congratulato con il neopresidente del Consiglio incaricato, Enrico Letta. Una scelta lungimirante di grande responsabilità, detto Spacca, capace di interpretare la complessità del cambiamento in essere nel nostro Paese. Letta era stato incaricato come capolista alla Camera sia in campagna che nelle Marche, ma ha preferito l'elezione nella nostra Regione. Nel corso della campagna elettorale, il vice segretario aveva tenuto due incontri anche nella provincia di Macerata. Sento una grande responsabilità, afferma il parlamentare marchigiano, già al lavoro per la formazione del nuovo esecutivo, perché questa situazione inedita e fragile non può continuare. Il Paese sta aspettando un governo che non nascerà a tutti i costi, ma solo se ci saranno le condizioni, ha concluso Letta. Si attendono per domani le prime consultazioni tra i partiti. Grazie. Grazie.